Corpo di Cristo da mangiare Lo scandalo delle parole di Gesù risuona ancora oggi. Gesù parla alla nostra vita, ci dice di mangiarlo, di nutrirci della sua carne e di bere il suo sangue per unire la nostra vita alla sua. Dal Vangelo secondo Giovanni I giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Come accettare che Gesù offra a sé stesso da mangiare? Rissuonano qui i dubbi di Pietro che non voleva farsi lavare i piedi da Gesù. Sono questi i dubbi di un amore troppo grande da accettare, un amore troppo grande da meritare. Gesù disse loro, in verità, in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Ma solo se mangiamo Lui che è la vita, la vita potrà essere in noi. Gesù offre la sua carne da mangiare e il suo sangue da bere perché solo così ci potrà essere in noi la vita eterna. Se per Gesù tutto questo ha significato la morte in croce, per noi tutto questo significa la vita vera. Significa riconoscere che noi tutti siamo importanti e preziosi più di quanto abbiamo mai pensato. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Gesù in ogni modo cerca di dirci che non sta parlando in modo simbolico o allegorico ma concreto e reale. Tutto questo ha un chè di scandaloso. Nasce qui la tentazione di disinnescare queste parole di Gesù dandone un significato limitato. Ma il pane e il vino dell'Eucaristia sono davvero il suo corpo e il suo sangue versato e donato per noi. Mangiando e facendo la comunione io non solo entro in unione con Cristo ma entro in comunione con la sua passione morte, con il suo donarsi e quindi con il suo amore. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre così anche colui che mangia a me vivrà per me. Se mangiando un qualsiasi cibo cambiamo in noi il cibo perché diventi noi, con l'Eucaristia viene il contrario. È l'ostia che ci cambia in colui che nell'ostia è presente. Sei disposto ad accettare tutto questo? Sei disposto a perderti per amore di Gesù? Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Vivere in eterno è vivere uniti all'amore di Dio che ci attrae a sé per diventare noi stessi colui da cui siamo amati. Non per perderci in Dio, in una vuota neutralità, ma per diventare pienamente noi stessi. non per perderti per diventare noi stessi.